Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, buona serata a tutti, benvenuti. Pensate, ci troviamo nella struttura di Fisioradi Medical Center, qui a Bismarra di Pesaro, nello studio mammografico. Alle mie spalle vedete il tecnico radiologo Maria Elisa Spurio Vennarucci, che è in realtà la prima sanitaria che si incontra nel momento in cui si decide di dover fare un percorso diagnostico, perché sarà lei, cioè il tecnico radiologo, ad agire direttamente sulla persona e poi le radiografie effettuate dal tecnico poi andranno direttamente all'attenzione del radiologo che andremo a intervistare poi nel suo studio, Valeria Consoli, una dottoressa che viene da Ancona e che attraverso l'esame poi degli test diagnostici potrà davvero dialogare e capire con la persona qual è il suo percorso migliore in termini di prevenzione, ma non solo perché poi sentiremo che la dottoressa sarà molto esaustiva per tutto quello che riguarda le principali patologie del seno delle donne. Ed eccoci in studio con la dottoressa Valeria Consoli. Buonasera, dottoressa. Buonasera. Dottoressa, specializzata in radiologia con una caratterizzazione sulla senologia, quindi sulla radiologia del seno femminile, viene da Ancona, la dottoressa, una città che noi reputiamo bellissima, degno capoluogo della regione Marche. Grazie mille, ricambio anche Piesa, una bellissima città, è sempre un piacere venire a lavorare qui e collaborare con questo centro. Sì, Ancona è una bella città, una città di mare, che però offre tanti scorci, anche collinari, montani, montani sul mare, tipo Porto Novo, quindi sì, bellissima, grazie. Angoli meravigliosi che invitiamo tutti i marchigiani, tutti coloro che seguono questa trasmissione, a davvero andare a scoprire personalmente, perché Ancona è bellissima, ha delle suggestioni incredibili, ma non parliamo di turismo, parliamo di sanità, di salute, quindi con la dottoressa entriamo subito nel merito della questione. L'importanza della diagnostica nel percorso di salute di ognuno di noi. Esattamente, la diagnostica svolge un ruolo fondamentale per quanto riguarda la diagnosi e soprattutto la cura, il follow up dei pazienti, per la loro, diciamo, non solo nel paziente malato, ma anche per seguirne eventuali patologie in fase precoce. Come radiologo, noi abbiamo una società italiana di radiologia medica, la SIRM, alla quale tutti i radiologi tengono molto il nostro punto di riferimento, che ogni anno, in collaborazione anche con il Ministero, elabora e produce tantissime linee guida e protocolli che sono volti proprio alla sicurezza e alla salute del paziente e al quale tutti i medici possono fare riferimento e tantissimi professionisti di altre specializzazioni poi dopo possono consultare queste stesse linee guida e confrontarsi con il radiologo per collaborare insieme al fine di mettere, insomma, il paziente sempre al centro di tutti quanti, della professione medica in generale. Certo, perché attraverso gli esami diagnostici di radiologia con diverse tecniche noi effettivamente sappiamo quello che avviene all'interno del nostro organismo, del nostro corpo, cose che altrimenti non potremmo vedere. Ma c'è un'età forse nella quale scatta un bisogno in più per le donne di fare determinati screening. Allora, per quanto riguarda la salute della donna, in questo caso stiamo parlando di senologia, ovviamente, l'età cruciale diventano i 30 anni. Tant'è vero che ci sono diverse linee guida che però più o meno concordano tutte quante. Come riferimento noi prendiamo le linee guida americane della società americana di radiologia e quelle europee che tutte fanno riferimento intorno ai 30 anni, tra i 30 massimo ai 40 anni, e cominciare a fare una prima valutazione del proprio rischio senologico per poi impostare successivamente dai 40 anni in su la modalità più idonea per ogni paziente. Come dicevamo prima, va ritagliato su ogni paziente il percorso diagnostico per capire quando fare i controlli e che tipo di controlli fare. Esistono diversi tipi di donne, noi attribuiamo diverse fasce di rischio ad ogni donna, mettiamo nell'alto rischio le pazienti che sono con familiarità importante, che hanno note in famiglia o note su se stesse mutazioni genetiche o altre caratteristiche come altre sindrome familiari che si sa che sono associate con il tumore al seno e quindi queste pazienti verranno indirizzate verso il percorso di alto rischio, quindi con controlli più seriati, con metodiche più approfondite di secondo livello, mentre tutte le altre pazienti che rientrano nella fascia di rischio normale della popolazione generale faranno dei controlli di base magari senza ancora usufruire di risonanza magnetica, ad esempio che è il nostro gold standard per quanto riguarda la diagnosi soprattutto di tumori di tipo infiltrante, bilaterale, età, eccetera, eccetera, però viene riservato esclusivamente alla conferma di patologia oppure nelle donne ad alto rischio, nello screening delle donne ad alto rischio. Però anche qui è un tema un pochino dibattuto su come fare effettivamente lo screening, tant'è vero che le linee guida della società americana e quelle europee un pochino differiscono in questo senso. In Italia non facciamo screening, per quanto riguarda invece lo screening proprio di base per il rischio della popolazione in generale, non cominciamo prima dei 50 anni, quando invece le linee guida europee lo consigliano almeno dai 45, quelle americane lo obbligano seriato dai 40, per capire che c'è un lasso di tempo di circa una decina di anni. Questo però va anche in base alla tipologia di popolazione, non possiamo paragonare la popolazione europea a quella americana. Però a livello globale si è visto che in questo intervallo di tempo bisogna, è necessario, è indispensabile che la donna cominci a fare almeno una prima valutazione senologica e cominci a fare un primo esame di mammografia con l'ecografia proprio per capire che tipo di seno ha, perché anche la tipologia di seno, quindi il seno denso, io sto parlando di quantità di ghiandola, non di volume della mammella, hanno un'influenza su quello che poi dopo sarà la probabilità di sviluppare un nodulo successivamente. Poi c'è anche una questione politica a livello regionale, è stato affrontato il discorso sulla possibilità di allargare l'età per accedere a questi screening, ovviamente è tutto a livello ancora teorico perché queste sono decisioni che si prendono nel tempo, però non è escluso che la Regione Marche prenda una strada per allargare questa possibilità, almeno questo era quanto trappelava nelle ultime settimane proprio a livello regionale. Sì, esattamente, allora proprio perché ci si vuole sempre più allineare a quelle che sono le guida, soprattutto a livello europeo, che indicano che l'età dovrebbe iniziare, insomma dai 40, quindi siamo 10 anni in ritardo su quello che riguarda lo screening, però purtroppo ci sono dei problemi anche di tipo economico, cioè ci sono dei finanziamenti, ci sono dei budget in cui rientrare, però è così, ampliare perlomeno a livello regionale almeno di 5 anni, quindi iniziare la mammografia di screening dai 45 anni sarebbe un grandissimo vantaggio, riusciremo a recuperare tantissime donne che purtroppo alla prima mammografia di screening a 50 anni già vengono con una lesione, insomma. Una lesione. Allora, lesione diagnostica, ma ovviamente tutto questo è inserito in un concetto molto più ampio che è quello della prevenzione. Si può sicuramente prevenire l'incorrenza di determinate patologie, ma a livello generale anche con corretti stili di vita, corretta alimentazione, con un modo di impostare la propria esistenza in maniera sicuramente più salutistica. Allora sì, questo è dimostrato da tantissimi studi in tantissimi settori specialistici, proprio nel campo oncologico in generale. Sappiamo che ormai lo stile di vita sano e l'alimentazione con basso contenuto calorico, molte fibre, previene l'insorgenza di tumori, del tratto gastrointestinale, piuttosto che la sospensione del fumo per quanto riguarda il rischio cardiovascolare, i noduli polmonari, eccetera. Questo è vero anche per quanto riguarda la mammella, ma la vera chiave di lettura in realtà, oltre ovviamente allo stile di vita come dicevamo, è stato il progresso scientifico e le capacità di cura che abbiamo adesso, più specifiche, più mirate contro il cancro della mammella. Abbiamo tantissimi nuovi farmaci, molto efficaci, molto più efficienti e con meno rischio. Sì, esatto. Questo è quello che dicevamo prima. La diagnostica unita a quello che è tutto l'ambito dell'anatomia patologica ci permette oggi di ritagliare, personalizzare, approfittando di un termine inglese, viene, you tailor, praticamente ritagli come confezionare un vestito, un abito su misura sulla paziente, tutta la terapia, tutto il percorso diagnostico. Per quanto riguarda l'ambito ospedaliero, per esempio, esistono le breast unit. Le breast unit sono formate da tutti gli specialisti che seguiranno la donna con il tumore al seno, la donna al centro, tutti gli specialisti intorno che decidono, in base a tutte le sue caratteristiche, l'estensione del tumore, la tipologia di tumore, quali sarà il tipo di intervento, la radioterapia sì o no, la tipologia di farmaco. Quindi è questo che in realtà rende il tumore della mammella molto più curabile e soprattutto la diagnostica precoce. Noi siamo in grado di trovare tumori del seno molto più precocemente rispetto a molti anni fa. C'è anche molta più informazione, le donne fanno molti più controlli, quindi ne troviamo paradossalmente di più, ma perché c'è più diagnosi. Una diagnosi precoce, però, e che ci permette una maggior curabilità. Tant'è vero che negli studi europei, recentemente, su quello che riguarda lo screening, si è visto che negli ultimi 20 anni sono migliorati tantissimo i dati di sopravvivenza per quanto riguarda il tumore della mammella, tranne che per quei paesi europei che non hanno attivato un programma di screening seriato e non hanno dei programmi di cura ad alto livello. Dottoressa, grazie davvero. Ci ha illustrato in maniera molto esauriente quella che è una situazione, una patologia che comunque fa paura, perché l'incidenza del tumore al seno è molto alta per quello che riguarda la percentuale dei tumori nella popolazione femminile, quindi poter contare sulle possibilità di una evoluzione scientifico-medica così importante è davvero un motivo di ottimismo anche nel parlare del futuro, nello sviluppo di questa patologia. Se potessi dare un consiglio alle donne è fidatevi e affidatevi al professionista che avete davanti. Quando venite a fare la mammografia non abbiate paura di sentire dolore, comunque confrontatevi con il tecnico e il medico che avete davanti, perché prima incontrerete il tecnico di radiologia che effettuerà l'esame mammografico, successivamente il clinico, quindi il radiologo, e fidatevi e affidatevi, ascoltate quello che vi viene consigliato perché il programma di cura esiste, ci sono tantissime armi, non dobbiamo per forza trovare un tumore quando venite a fare l'esame, però è bene fare i controlli, è bene fare diagnosi precoce se ci fosse bisogno, insomma. Gli importanti sono i controlli, quello sì. Dottoressa, grazie davvero. Le parole veramente, come posso dire, d'oro che ha detto fidatevi e affidatevi, perché davvero bisogna avere fiducia nella medicina, l'abbiamo visto anche in questi anni, tutto quello che è successo nonostante i tanti problemi, ma fiducia nella medicina significa fiducia nella vita e nel futuro. Grazie dottoressa. Grazie a lei, arrivederci. Ci vediamo lunedì prossimo. Buona serata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.